Dopo quasi un anno e mezzo di sospensione dovrebbe ripartire il piano di eradicazione della peste suina africana e la campagna di abbattimenti. La giunta regionale il 31 agosto scorso, su proposta dalla vicepresidente Alessandra Zedda, di concerto con gli assessori alla sanità e all'agricoltura, ha approvato la delibera 3651 che definisce il piano di eradicazione della peste suina africana per il 2021-2022. Il provvedimento dà mandato all'unità di progetto, in collaborazione con il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, di attuare il piano attraverso un programma operativo. Sulla decisione della giunta regionale interviene con una nota il deputato del Movimento 5 Stelle, Alberto Manca, per il quale si tratta dell'ennesimo annuncio dell'esecutivo. In realtà nel mondo sardo della zoctennia e dell'allevamento di suini, sottolinea il deputato Pentastellato, si sa bene che non vi è alcuna attività di depopolamento in corso e non vi è alcuna attività di contrasto. L'attività di controllo della peste suina si è bloccata da tempo, sottolinea Manca, e l'Unione Europea non concede ancora alcun tipo di deroga alla commercializzazione dei prodotti. Si pensi che l'ultimo abbattimento risale al febbraio 2020. Le conseguenze di queste decisioni vengono pagate dagli allevatori e dai produttori, ancora costretti all'embargo, sottolinea il deputato Manca, che sulle decisioni della giunta regionale chiama in causa la Lega. Che la peste suina, dopo 5 anni di attività dell'unità di progetto, sia in regressione, lo dicono i numeri. Da 32 mesi non si verifica un caso di peste suina in allevamenti registrati, da 28 negli allevamenti del Nurese e dell'Ugliastra e da 25 mesi nella popolazione di cinghiali. Ma questi numeri alla Commissione Europea non bastano, tanto che la Sardegna è ancora aggravata dall'embargo sull'esportazione delle carni suine, a pesare sulla decisione europea la sospensione del piano di eradicazione. Ora la giunta regionale spera che con il riavvio dell'attività dell'unità di progetto a Bruxelles cambino idea. Ma non sarà facile, soprattutto non sarà una decisione a breve termine.